Buon pomeriggio amiche! Come va? Come state? Spero tutto bene! Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Amiche, capitolo terzo delle palette color fanatic di Bella Oggi! Questo è il capitolo tre, pare non ce ne siano altre, nel capitolo uno abbiamo unboxato e swatchato la Italian Sun Palette, quindi una palette super radiosa nei colori, arancione, bellissimi colori all'interno. Vi lascerò, penso, il link del video o in descrizione o nel primo commento, così li potete recuperare se non avete visto i video degli unbox di queste due palette. Questo invece si chiama Cherry Glow Palette ed è nei toni del rosa, molto freddini gli ombretti contenuti all'interno, anche il blush e l'illuminante. Invece in questa palette, possiamo anche girarle così almeno si vedono i colori, questa invece è molto più caldini, questa è la numero 001, questa è la numero 003 e ne vien da sé che quindi questa è la 002, se non erro. Infatti la 002 e si chiama Desert Vibes Palette, cioè le vibes, Bella mi piace, Desert Vibes Palette, che pronuncia a me che io ce l'ho messa tutta e anche di più, quindi contentatevi, meglio di così non ce la faccio. Color Fanatic e all'interno c'è una bellissima polvere illuminante e top coat, non ce lo dice ma c'è anche un blush, questo è un blush amiche. Questa pare sia, come possiamo dire, i colori sono sicuramente nude, la apriamo e guardiamo. Non mi sembra calda, non mi sembra fredda, probabilmente è un pochino più neutra rispetto alle altre due. Sì, ha colori più nude, può essere, ma no perché comunque ci sono anche dei viola, mi sembra. Eh sì, vediamo. Allora, è comunque bellissima e il pack è appunto nudino, opla, marroncino. Carina. E cosa c'è? Che cade? Mettiamole qua, così non cadono più. Bella, molto molto bella nel pack, mi piace abbastanza il pack. Ah, non ve l'ho detto ma è calamità, è volato il foglietto. È calamitato. Sì, vedete? Quindi? Eh sì. C'è lo specchio all'interno, noi mettiamo il polistirolo, Scusate, sembra un po' di tosse, per non sparaflesciarvi e non inquadrarvi la dolcissima regista nello specchio. Molto carina sembra. Apriamo anche i blush, ecco. E così riusciamo anche a vedere un attimo da vicino le colorazioni. Adesso le swatchiamo, mi sembrano meravigliose. Tu cosa dici? Bene. Mi sembra abbastanza, cioè, mista diciamo, varie come colori. Mi aspettavo tutti i caldi dal pack esterno. No, non sono caldi. Non sono freddi. Secondo me è più neutra questa paletta. Sì, è una via di mezzo. Una via di mezzo. Allora, cerchiamo un discatto. Sì, sono sia colori caldi che colori freddi. Eh sì. Amiche, scusate, ma c'ho sempre questa tosse fastidiosissima. Allora, mettiamo un po' di tonico per pulire il ditto in corsa. Allora, da cosa partiamo? Facciamo così, così dall'alto. Ok. Allora, rosa. Un rosa baby molto neutro, molto carino. Casi non percepibile. Infatti, colore non percepito. Questo sembra pazzesco. Vediamo. Le aspettative più alte ce l'ho per questo colore e per questo. Vediamo. Carino. Devo dire non è male. Ci sta. Questo, champagne, beggiolino. Vediamo un po'. Guarda, sembra quasi rosato. Bello. Molto, molto elegante. Molto carino. Col mignolino prendiamo questo. Forse. Vediamo. Eh. Bello. Eh. Che cos'è? Aranciato, dal solito. Sì. Non è tanto, cioè, tipo... Eh, io ho più un color rame, però arancione. Non lo so. Sì. Non è bruno. Bellino. No. È un colore, diciamo, che non vediamo spesso. Sì. E questo che cos'è? Un color taupe? Ah, non lo so. Vediamo se è carino. Dai. È un marrone. Un marrone abbastanza piacevole. Questo è un dorato. Dorato caldo. Vediamo se si sfoglierà. Eh, ho paura di sì. Bello. Bello, però. Molto bello. È un bel dorato, sì. Sì, molto caldo. Questo è un rosa antico o è un rosa lilla, secondo te? Secondo me è un rosa marrone a vedere così. È un rosa bello, però. A me piace tanto. Intenso, ma bello. Intenso, sì. Bellissimo. Poi, questo è un pesca, quasi. Ma molto, molto matte. Vediamo. Beh, dai. Carino. Io l'aspettavo meglio a vedere. Sì? No, io no. Non me l'aspettavo meglio. Questo, diciamo che è imparentato con questo, secondo me, ma è un pochino più scuro. È freddo, forse. È freddo anche. Vediamo. Bello, questo bello. Molto interessante. Forse è anche come illuminante, forse. Eh, ma. Quasi. Punto luce all'interno dell'occhio. Bellissimo. Questo è zebrato, ma meno fastidioso degli altri, zebrati. Bello, bello. Questo mi piace. Questo è bello. Raramente i zebrati sono così belli, perché vengono fuori dei colori indefiniti, imbarazzanti. Non è neanche tanto zebrato questo. È già un mescolato. Infatti. Oh, guarda questo com'è freddo. È un dorato limone. Questo è oro 24 carattere. Eh, sì. Dici? Potente questo. Non lo so, perché qua vediamo. No, è più giallo, però. Più giallo, vedi? Nì. Sì. È quasi, è un dorato limone. Non c'è spesso. Di solito c'è sempre il dorato. Eh, sì. Questo colore non è molto, come si dice, frequente nelle palette. E questo sembra una specie di grigio lilla. Grigio piccione. Non si vede. È un po', no, un tortola neanche. È imbarazzante. Non si vede quasi. Questo no. Boh, non mi dice nulla. Questo? Cipria. Non percepito. Pazienza. Questo è un bel rosa. Però è sempre matto, comunque. Purtroppo. E qua di fianco. Sì. Perché non lo vedo. Carino, dai. Niente di trascendentale. Un rosa antico, carino. Questo, le aspettative per questi due sono altissime. Gli conviene performare. Gli conviene, allora. Sì. Vediamo. Eh, dai. Non è male. Dai. È bello. È un po' color di cane che fugge, comunque. E questo speriamo bene. Speriamo che sia intenso. Speriamo. E glitter. E glitter dove sono? Dove stanno? Non ci sono. È solo un nero sbiadito. Un nero sbiadito. Me l'aspettavo diverso. Me l'aspettavo più bello. Andiamo subito con il blush. Molto neutro questo blush. Nelle altre palette ne avevamo uno che era molto rosa e uno molto pesca, caldo. Quindi questo ci sta un bel neutro. Bello però, mi piace. Molto. Anche a me piace tanto. Molto carino anche l'illuminante. Vediamo. Bello. Bello, bello. Bellissimo. Ecco, cioè, già con il blush e l'illuminante si vale il prezzo della palette. Carina, dai. Ci sono colori che mi piacciono tanto, colori che non mi piacciono per nulla. Quindi direi che è abbastanza bilanciata. Volevo anche fare così, come facciamo sempre. La trovo abbastanza carina, abbastanza bilanciata. Il suo prezzo, vi ricordo che è 15,90€, ma in questi giorni al Tigo Tassi paga 5,90€. Queste tre palette. Ognuna, no? 5,90€. Se no, il loro prezzo per ognuna è 15,90€. Invece solo per, penso, un po' di giorni si può pagare 5,90€. Quindi, buono, diciamo, come prezzo. Secondo me se lo vale, no? Sì, sì. Poi ho appena notato che c'è il pennellino in queste palette. Sempre è abbinato ed è letteralmente imbarazzante questo pennello. Perché hanno questa parte di imbottitura simile, non so neanche io come chiamarla. Tipo spugnetta. Tipo spugnetta. Che andava tanto negli anni 90. E se tu la lasci là, tra un po' di giorni, no, un giorno no, ma tra un anno e mezzo la trovi sbriciolata senza neanche usarla. Oppure ti si sbriciola, cosa orrenda. Mentre la stai usando ti si sbriciola e ti scarciofa perché all'interno c'è la plastica, ti scortichi un pezzo di faccia. La parte del pennellino è talmente rigida e talmente plasticona che ti scartavettra letteralmente l'anima. Cioè, cosa devi fare con questo? Non sfumi, non fai nulla. Poi non è comunque troppo piccolo anche per sfumare. Ed è piccolo, quindi questo... No, no, ma intendo proprio anche per sfumare come pennello. Sì, è letteralmente imbarazzante questo pennello, amica. Non so quante volte avrò detto questa parola, però... In questo video. In questo video. Questi pennelli, quando li trovate, buttateli. Piuttosto è meglio mettere qua un cotton fioc. Guardate, piuttosto vi trucca meglio un cotton fioc col vostro dito. O una di quelle mini matite, tipo se... Eh, una mini matita nera, ma sai che non ci passa? Non ci sta? In altezza no. Ah, cavoli, se no era carina. Se no era carina, ma guarda, meglio niente che questo. Potevano risparmiare i soldi perché avrassero messo un piccolo pennellino fatto bene per blush, volendo. Ma se no niente, facevano pagare 15 invece che 15,90. Sì, sì, infatti. Il pennellino, se per caso Belloggi mi sta guardando, o lo metti decente il pennello, o questo non è un pennello per make-up, secondo me. Fatemi sapere invece nei commenti se voi magari vi trovate bene al 100% con questi micro pennelli, sì, sì, plasticoni, perché è plastica questa secondo me. E non voglio dire che il pennello, diciamo, di setola di chissà che sia meglio. Sto dicendo che questo tipo di setola sintetica è dura. Io ne ho provate di setole sintetiche morbidissime, morbidissime. Quindi è proprio lui che ha realizzato con una setola, perché sembra una setola di cinghiale questo, grossa, dura, spessa, rigida, che a me gratta, scarciofa. Guardate, amiche, così. Cioè, lo so che noi facciamo così per... ma non sfuma, non applica. Io li ho provati nel corso del tempo, però pensavo di non essere capace inizialmente, invece era colpa dei pennelli. Ok. Sì, a differenza va benissimo per mettere lo smalto, questo. Sì. È come il pennello per lo smalto, guarda. Carino, di precisione, anche. Quindi se non lo volete buttare, avete bisogno di un pennello per lo smalto, perché magari, boh, il vostro c'è qualcosa che non va bene, mettete questo. Ok. O almeno lo usate. No, perché qua, negli ombretti, non ve lo consiglio. E si fa tanto il pennello comunque, sì. Sì, non vi fa la sfumatura. Cioè, per capirci. Non lo so, uno morbido, quale può essere. Guardate la differenza con questo. Tensione. Lasciamo perdere che è un po', l'ho usato stamattina per sfumare. Però, guarda, cioè. Eh sì. Si sente anche il rumore, cioè. È tutto un altro fluffy, questo ho capito che è di Charlotte Tilbury e magari costante è parecchio. Per esempio di Essence, quindi infatti, ma adesso, non lo so, questo mi viene da dire, di Revolution, che è di Nemo, è morbidissimo. Sì, comunque, pagato poco. Poco, è morbidissimo. Gli ho pagati 4 euro, 4 pennelli, quindi morbidissimo. In offerta, ovviamente, questo è duro e rigido. Questo, vanno benissimo i pennelli di Revolution, sono super morbidi. Anche quello, per esempio, di Alice nel Paese delle Meraviglie, sono morbidissimi. Sia quelli più grandi, che quelli anche più piccoli, proprio queste per applicare l'ombretto. Innanzitutto è tondeggiante, non è così squadrato. E sono fatti bene, funzionano benissimo. Quindi, che dire, per 5 euro e 90 sicuramente, amiche, se la trovate, compratela, perché è molto bella. Io vi consiglio 5 euro, se le trovate, compratevele anche tutte e tre. Perché all'interno di queste tre palette, insieme, cioè, si possono anche remixare. Abbiamo perso i peli, tra l'altro, guardate, di questo. Intanto che l'ho sbentugliato, si staccano già i pezzi. Scusate, ma li do, sfiori via, perché mi fanno letteralmente... Guarda, tutto pieno. E non sono le mie sopracciglia, eh. Erano i peli di questo. Magari qualcuno poi dice, oh no, ma era un tuo pelo di sopracciglia. No, 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 no. E quelle delle ciglia è impossibile perché sono incollate col masca. Eh, perfetto. Sì. Comunque vi dicevo che secondo me, assolutamente, un affarone per 5 euro e 90, 16 ombretti, un blush, un illuminante, è compatta, lo specchietto la potete portare anche in viaggio con voi perché non occupa troppo spazio. Quindi se la trovate, se le trovate anche tutte e tre, fate così. Ve le comprate, poi potete anche guardarle con calma a casa e poi con, se volete tenerne solo una, le altre due che non tenete potete fare un regalo di compleanno a due amiche. Perché con 5 euro fate due super mega regali a due amiche. No? Eh sì. Scegliete guardandole bene, senza swatcharle perché le dovete regalare, e le guardate bene, decidete quale tenere, che non ci sarebbe nulla di male a fare questo, no? No, no, infatti. Le guardate tanto sono aperte, comunque non è che sono sigillate, a casa ve la guardate tranquillità, i colori, la scheda colori, valutate quale delle tre fa il caso vostro, una la tenete e due le regalate alle amiche. Anche come regalino così, senza che ci sia un compleanno, perché per 5 euro, no? Alla fine cos'è? Sì, sì, infatti. Una bibita al bar, 5 euro ormai, oggigiorno, no? Sì, perché con 3 euro una bibita, mette un tramezzino e una bibita 5 euro al bar. Quindi, o una colazione anche al bar. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa palette di Bella Oggi. Il nome è Desert Vibes e quindi la parola segreta di oggi è questa qua, amiche. Desert Vibes, scritto Vibes, ok? O se no, se lo volete scrivere in italiano, vibrazioni nel deserto, ok? Quindi l'imoji segreta di oggi, la conosciamo solo noi, è il cammello. Ok. O il dromedario, non lo so, quello che c'è comunque di immoji, mi pare che ci sia un animale così del deserto. Cosa ci sono entrambi, sia il cammello o il dromedario. Ok, amiche, allora, cammello, dromedario, tutti e due. E se poi volete stupirmi con qualche immoji come una duna nel deserto, o qualche altra immoji carina e adatta a questo video, fatelo e mi renderete veramente contenta. O come dico sempre, anche quando vi rispondo ai commenti, felicissima, contentissima. Sì, sì, sempreissima, perché non bisogna risparmiare sui sentimenti, sulle emozioni, ma bisogna, secondo me, esternare, amiche. Esternate le emozioni che è bello e fa stare bene. Tu vuoi aggiungere qualcosa per l'unbox di oggi? O abbiamo detto già tutto? E mi sa che abbiamo detto tutto. La tua palette preferita, qual è la fine tra queste tre? Eh, la mia palette preferita mi pare che sia questa, Italian Sun. Perché la Cherry Glow per me è troppo fredda, anche se mi piace utilizzarla, niente da dire. Oggi ho utilizzato questa perché ho il lilla e il marrone presente all'interno di questa palette. Però la Italian Sun è più nelle mie corde, perché il verdolino lo amo tantissimo, il pesca, i dorati, ma anche i marroni contenuti all'interno, il blush. Mi piacciono proprio tanto, tanto, tanto. Mi piace il pack arancione, mi piace proprio anche il nome, mi piace in generale e quindi è la mia preferita. E fateci sapere qual è la vostra preferita tra queste tre, amiche, no? Giusto, perché mi stavo anche dimenticando. Cuoricino marrone per quella marrone, cuoricino arancione per quella arancione e cuoricino rosa per quella rosa. Eh, e scrivetecelo anche, così lo capiamo. E potete proprio scrivere la mia preferita è... O scrivete la palette arancione, la palette marrone e la palette rosa, col cuoricino, come ha detto, la regista del colore. E se volete potete anche scrivere, se vi piace scriverlo, il nome. Questa è la Cherry Glow, questa è la Desert Vibes e questa è la Italian Sun, ok? Quindi mi sembra che così sia molto più completa la cosa, molto più carino. Mi raccomando, correte altidottà a comprarla se ci tenete a comprarla a un piccolo prezzo, se no il prezzo è 5,90 euro. E mi raccomando... E 15 euro. Oh, scusa, ho sbagliato. 15,90 euro. E mi raccomando, appena ce l'avete, la proviamo assieme nei video della mattina, no? Io mi trucco insieme a voi così la proviamo insieme, tutte e tre, se le prendete tutte e tre. Non le proverò una volta sola, no? Le proveremo insieme nei video della mattina, da qui a un po' di mesi, ogni tanto random. Magari che ne so, una volta alla settimana ne proviamo di nuovo una. Poi la settimana dopo ne riproviamo di nuovo una. Così da creare, diciamo, più combinazioni di colori, perché comunque ci sono 16 ombretti. Mi sono dimenticata di provare i blush, sia stamattina qua, che l'altra volta con quest'arancione. Quindi la dobbiamo riusare per riprovare anche il blush illuminante. Ma, visto che ci sono 16 ombretti, ci sono anche tante possibilità di abbinare colori e ombretti. E quindi le dobbiamo provare, secondo me, almeno 5-8 volte ciascuna. Per avere una, come si dice, un riscontro abbastanza completo e sensato. E poi, al limite, ancora più avanti le proveremo per capire se gli abbinamenti di colori ci sono piaciuti. E poi potremo anche remixare tra di loro, tipo prendere un colore da qua, un colore da qua e vedere un altro colore da questa. E vedere se utilizzate insieme, anche se una è fredda, l'altra è calda, l'altra è neutra. Vedere un attimo che minestrone ne viene fuori, perché se c'è una maestra dei minestroni, quella è la vostra lallix. E senza nessuna paura, mischio tutto e non me ne frega nulla. E a volte esce anche un minestrone molto buono, no? Eh sì. Anche nei colori. E mi sembra che abbiamo detto proprio tutto. Io vi ricordo di lasciarci un like, un pollicino in su se questo video vi ha tenuto un po' di compagnia. E in qualche modo magari vi è anche stato utile. Mi raccomando, condividete il video con tutte le amiche amanti delle offerte, delle palette in offerte, ma soprattutto amanti del make-up. Commentate con tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, l'iscrizione è importantissima per noi ed è gratuita. Come dico sempre, io ci aramancai a Tragosa Buru. Come sempre vi mando un bacio grande, grande, grande. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao amiche, buona serata. Fate le brave. cookie. Grazie a tutti. Agricoltifer. Grazie a tutti